Il Tomolini di Martinsicuro si conferma ideale roccaforte per la squadra locale che supera un comunque ottimo Castel di Sangro e conquista il settimo successo stagionale. Da Cineteca il raddoppio firmato dal giovane Addari a 10 minuti dal termine. Fanisi affida la rapidità dei brevilini in Nepa e Addari sul fronte offensivo che appoggiano il centravanti Rampa, mentre Mister Scatena opta per il tridente Petrocelli italiano di Allò. Parte a sprombattuto la compagine Rivierasca a poco più di 300 secondi e il fendente di Vallese quasi battezza l'incrocio dei pali. Il forcing iniziale bianco-blu è impietuoso. Rampa spreca così da pochi passi sull'interessante suggerimento operato da De Cesaris. Al diciottesimo Nepa mostra tutte le sue credenziali tecniche sui calci piazzati. In questo caso risponde il presidente Leone. 60 secondi e il Martinsicuro passa. Sui sviluppi del calcio d'angolo battuto dal solito Nepa la sfera attraversa tutta l'area piccola fino ad incontrare il piatto di De Cesaris che non può sbagliare l'1-0 è servito. La reazione sangrina non si fa attendere due giri di lancette e Cerasuolo è sfortunato nel colpire in pieno la traversa. Le ultime emozioni di una scoppiettante prima frazione si registrano sul finire. Al quarantesimo prosegue il duello a distanza tra Nepa e Leone. Stavolta è prodigioso l'estremo ospite nel deviare in corner. Il castello però chiude all'attacco. Al quarantatresimo con una punizione di Diallo troppo debole per impensierire Cinquegrana. E dal primo minuto di recupero dopo una clamorosa indecisione tra il portiere Cinquegrana e il difensore Paci. Se Petrocelli non riesce ad approfittarne è solo perché il pallone sorvola Beffardo la traversa. I primi 45 si chiudono sull'1-0. La ripresa vede subito un cambio forzato negli Adriatici. Fuori l'infortunato Vallese, dentro Massi. La prima emozione viene al cinquantasettesimo con Addari. Il suo tiro viene parato da Leone. Un giro di lancette e la gara potrebbe cambiare registro. La manovra avvolgente e sangrina si chiude con la rete anullata di Italiano per un più che sospetto offside segnalato dal secondo assistente. Crescono le proteste della panchina ospite. Ne fa le spese il tecnico Scatena, allontanato poco dopo dal direttore di gara. Suo omonimo. Sale il pathos della sfida. Al settantunesimo, sul destro a giro firmato Nepa, Leone devia proprio sui piedi di Rampa che sbaglia l'impossibile. Porta praticamente sguarnita. Altro cambio forzato per Fani al settantacinquesimo. Rampa abbandona il campo in barella dopo uno scontro fortuito con Leone. Picciola lo rileva. Cinque minuti e il martinsicuro raddoppia. Il diciassettenne Addari griffa una rete semplicemente da cineteca su traversone di Picciola. L'attaccante di casa non ci pensa su due volte nel prodursi in una rovesciata davvero degna di altre platee. Rete che si candida a diventare uno spot per il campionato di eccellenza. 120 secondi e Fani gli garantisce la giusta standing ovation. Gli subentra Corsi. Il match sembra chiuso. Niente di più sbagliato. Grande protagonista diventa Pennacchioni. All'ottantatresimo con un colpo di testa che timbra il palo dopo la deviazione decisiva di Cinquegrana. Due minuti dopo con il tapin vincente che riapre di fatto la sfida. 2-1. Nei sei minuti di recupero ancora emozioni. Al novantunesimo con Cinquegrana che disinnesca il colpo di testa di Campanella. E all'ultimo giro di lancette con la punizione da distanza siderale firmata di Paolo. Al triplice fischio ai reamaricati ospiti rimangono soltanto i complimenti per una bella prestazione che non regala ancora punti. Mentre gli adriatici danno seguito alla loro bella striscia vincente interna. Molto molto importante il risultato. In virtù anche di una partita molto difficile. Così come mi aspettavo. Castizzani è una squadra che non muore, una squadra che corre, una squadra che lotta su ogni pallone. E ha grande carattere. Noi in questo pecchiamo un po', siamo una squadra magari più manovriera, più attendista. E quindi la partita è stata molto difficile. Luca ha questi numeri. Magari durante la partita non riesce a essere continuo proprio perché ha queste qualità. Dopo ci ha abituato anche altre volte, anche in settimana, a fare dei gol di questo tipo. Onestamente se guardo tra i primi dieci minuti della partita un punto ci stava anche stretto. Ma questo è un trend che abbiamo già da altre due partite scorse. Abbiamo giocato molto bene alla squadra. Di fatti ci siamo trasformati. Faccio i complimenti soprattutto ai ragazzi. Dire che sono un po' arrabbiato è poco. Per i due fuorigiochi clamorosamente fischiati. Poi sul gol non posso dirlo. Ma sui due fuorigiochi iniziali al primo tempo ero in linea e posso dirlo. Certo, arrabbiarmi con due ragazzi che abbinano uno a 150 metri da casa e uno a 200 metri sarebbe riduttivo per il calcio. Mi dispiace solo che sono stato allontanato perché mi avevo detto solo che è partito da dietro. Senza offendere nessuno. Però poi c'è il gol di Addari, il centravanti loro, che mi riconcilia con il calcio e mi fa passare tutto quanto.